Il primo tempo andiamo a pareggiare sull'1-1 con una grandissima squadra, quasi fine primo tempo secondo me un ricorrenetto, o un'espulsione o tutte e due che non ci è stata data per decisione degli arbitri o per svista o non si è capito questo, noi già come uomini contati fare il secondo tempo tutta la partita che rimaneva con un uomo in più e forse anche con un gol di vantaggio ci avrebbe spianato la strada. Cosa chiede alla sua squadra per un miglioramento? La mia squadra va benissimo, i ragazzi sono bravi, il campionato è quasi finito e arriviamo sempre in otto in campo e già è una soddisfazione, ci divertiamo. non facciamo falli, non prendiamo espulsioni o tranne mio figlio sempre che prende qualche ammolizione ma oggi non l'ha presa, secondo me facciamo un bel gioco, non ci facciamo male è già una grandissima soddisfazione. Sì sì sicuramente abbiamo giocato bene, io ripeto da inizio stagione che secondo me giornate e orari non sono per la Serie A di Lega e ciò mi viene sempre oscurato dalle vostre riprese, non so il motivo però ripeto per me la Lega di Serie A a oggi non può giocare di martedì o di giovedì dopo allenamenti di ragazzi che sappiamo tutti che ragazzi si allenano in questi giorni e secondo me orario che andiamo a iniziare la partita alle 11 è molto 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 difficile venire a Roma sicuramente è un problema, io ho scelto il lunedì e gioco sempre in casa perché non gioca nessuno, avvantaggio anche le squadre che vengono da fuori, mi dovrebbero ringraziare invece mettono sempre queste partite secondo me sbagliatissime in orari e giorni sbagliate per un campionato bellissimo che ha creato la Lega per Roma e provincia. Grazie e buona serata.